A che punto sono le delibere su Napoli città autonoma e soprattutto in cosa consistere? No, 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 questa non risponderò quando saranno pronti. Vi posso dire che è un po' la cadenza. Settembre approveremo la prima delibera Napoli città autonoma, fine ottobre quella sulla cancellazione del debito e credo fine novembre quella sulla moneta. Quindi una delibera al mese si può digerire politicamente.